Fiat vanta 60 anni di storia, 60 anni di storia di passione per la nautica e di amore per il mare. Iniziata con il suo fondatore Ruggero di Lugo e portata avanti da tutta la sua famiglia e da tutti gli operai e le persone che ogni giorno lavorano in cantiere. La passione per il mare ci guida ogni giorno ma per noi è importante anche la cura del dettaglio e l'attenzione ad ogni particolare. Per noi è fondamentale l'innovazione tecnologica e la ricerca ed è per questo motivo che abbiamo scelto di lavorare insieme a QUIC per garantire il massimo comfort a bordo per i nostri clienti. Gli stabilizzatori QUIC soddisfano diversi requisiti per noi fondamentali tra cui la facilità di installazione e le dimensioni contenute che ben si adattano a diverse taglie di imbarcazioni. Il raffreddamento ad aria garantisce anche una più facile ed efficiente manutenzione. Il comfort all'ancora è fondamentale per tutti i nostri clienti perché è tipicamente lì che si passa la maggior parte del tempo a bordo. Quindi avere una stabilizzatore giroscopico come QUIC è diventata ormai un'esigenza irrinunciabile.